I giorni dell'allarme influenza, quelli delle due settimane a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, sono solo un ricordo. Al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce è stato un periodo terribile, giornate in cui i medici e gli infermieri non riuscivano a far fronte alle richieste di ricovero dei pazienti, soprattutto anziani, colpiti a raffica dall'influenza. Tanto che per garantire un posto letto a questi pazienti a rischio, il direttore generale Giovanni Gorgoni aveva disposto il blocco dei ricoveri programmati in tutta la ASL. Un provvedimento unito all'invito di effettuare la vaccinazione che si è rivelato quanto mai provvidenziale e risolutivo. Oggi pare che la situazione di criticità sia cessata o comunque sia fortemente ridimensionata e lo si evince proprio dal conteggio dei posti letto extralocati, che è notevolmente diminuito, segno evidente che l'influenza sta tirando i remi in barca. Nei momenti più intensi dell'influenza, che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio e quindi interessa maggiormente il reparto di pneumologia, si era arrivati a ricoverare in altri reparti fino a una trentina di pazienti. Probabilmente è facile prevedere che il direttore sanitario Antonio Sanguedolce proporrà di revocare quanto prima il blocco dei ricoveri programmati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.